Musica Mi sono sempre chiesto da dove vengano i lenzuoli che coprono i cadavere. Chi li porta? I carabinieri, le ambulanze? Oppure qualche mano gentile dalle case? Già da quattro anni lavoravo in cronaca al mattino di Torre Annunziato, ma ancora non ero giornalista. Diciamo che ero una specie di abusivo. Ogni tanto il giornale per risparmiare ci faceva fare pure i fotografi. A Torre Annunziato, i camorristi hanno fatto vincere le elezioni ai politici che volevano loro. Siete corrotti! I pochi dici non regalano gli appalti solo per il potere. No, vogliono pure i soldi. Era meglio prima quando le portavano il guaglione del pasticciere. E questo fiume di soldi per forza lascia una traccia molto più grande. Questa traccia è più di riserva. La criminalità, la corruzione, non si combattono soltanto quei carabinieri. Lei perché si serve di me? Noi non siamo a forza, vai! Noi non siamo a forza! Allora quello che un giornalista, un giornalista dovrebbe fare è questo, informare. Pronto? Ci siete buono fatto.